Una domanda specifica sulla Nato, viene il dottor Lombardini, non sarebbe giunto di Gilberto Ma, non sarebbe giunto il tempo di chiedere alla Nato di andarsene dall'Italia o almeno di levare tutte le testate nucleari che potrebbero diventare oggetto di rappresaglia in caso di conflitto, inoltre con l'uscita dalla Nato e la contemporanea dichiarazione di neutralità si risparmierebbero all'incirca 60 milioni di euro al giorno che è il costo dell'appartenere a questa alleanza che non ha più senso di esistere oggi, essendosi trasformati in una coalizione aggressiva a comando esclusivo americano, coalizione nella quale l'Italia non conta assolutamente nulla a livello decisionale, che senso ha oggi continuare a pagare per una finta liberazione? O le colpe dei padri devono ricadere sui figli in eterno? Se al popolo venisse detta la verità sono convinto che la maggioranza sarebbe per l'uscita immediata, cito l'ultimo passaggio, fin tanto che il paese non verrà liberato dal gioco USA-Nato la questione è e rimane il vero problema dal quale hanno origine il 90% dei mali d'Italia. Sono contento che Gilberto ha colto il punto perché non molti si ricordano che il primo problema di mancanza di sovranità, di autodeterminazione è proprio dovuto alla presenza militare Nato sul nostro territorio, quindi assolutamente concordo con quello che ha detto, mi permetto solo di correggere la cifra che ha dato perché non sono 60 ma 70 milioni al giorno che sono spese che verranno alzati a 100 milioni secondo la decisione di Trump di autonomizzare progressivamente i membri della Nato a livello finanziario, anzi ricordo la proposta sempre uscita da Trump del cost plus 50 che ci richiede di pagare integralmente le spese militari della Nato sul nostro territorio e maggiorare di un 50% per il diritto di usufruire di questa meravigliosa protezione che riceviamo quindi assolutamente è un problema enorme, noi dovremmo uscirne, abbiamo anche la legittimità di farlo perché per due ragioni direi, la prima è che anche l'Unione Sovietica e quindi la Russia ha vinto la seconda guerra mondiale, però ha smesso di esercitare il suo gioco militare sui paesi dell'Est, non vedo perché non debba fare lo stesso anche gli Stati Uniti dato che peraltro negli accordi con Gorbachev c'era l'obiettivo della dissoluzione della Nato assieme al patto di Varsavia, cosa che invece è stata puntualmente dimenticata, c'era ovviamente che non poteva spingersi a Est, nemmeno entrare nella Germania Est, figurati, la prima cosa che è successa è quella e per una seconda ragione direi anche che abbiamo legittimità di uscire perché qui c'è scritto appunto tra virgolette nella domanda, leggo che c'è stata una finta liberazione, ricordiamoci che appunto i veri liberatori dell'Europa del nazifascismo che piaccia o non piaccia sono stati i sovietici e basta vederlo dalle cifre, oltre 30 milioni di morti da parte sovietica e appena 300 mila da parte americana, l'Unione Sovietica che ha iniziato a combattere il nazifascismo dal 42 quando è stata lanciata l'operazione Barbarossa, gli Stati Uniti che arrivano nel D-Day si svegliano nella primavera, nell'estate del 44, quindi voglio dire praticamente a guerra finita intervengono, poi l'Italia tra l'altro si è liberata per metà da sola grazie alla guerra partigiana, quindi c'è tutto un discorso per cui già dire che siamo stati liberati dagli americani è una parola grossa, in più la guerra è finita e l'altra parte ha rinunciato alle sue basi e agli suoi militari, non vedo perché loro debbano abbiano legittimità ancora restare qui da noi, restiamo amici ma non restiamo vassali. Chiarissimo, l'esamina molto articolata e diciamo perle ancora molto spesso dimenticate insomma anche in questo intervento. Federico Terenzani, per il dottor Lombardini, è possibile uscire dalla Nato e rendere l'Italia un paese neutrale? Se sì come? Tutto è possibile volendo, però c'è una differenza tra ciò che è possibile e ciò che è probabile e ciò che è improbabile. Abbiamo appena detto che è urgente, importante uscire non soltanto per una questione di costi ma anche per una questione di rischi, di ritorsioni nel caso degli scopi di una guerra perché noi siamo coinvolti direttamente e anche per una questione di autonomia per avere dei governi che possano decidere autonomamente cosa fare senza dover essere convocati ogni volta a Washington. Quindi la necessità c'è, è urgente, non è facile. La domanda ovviamente mi rendo conto è pertinente ma vi chiederebbe un approfondimento molto ampio. Io dico solo due pillole di linea per uscire dalla Nato serve uno o più partiti forti con una forte linea che decidono di prendere questa posizione e lo decidono di fare a livello strategico, cioè senza sbandierarlo troppo e mettono di fronte al fatto compiuto gli americani, cioè un giorno dopo si svegliano e tutte le basi militari americane sono state occupate e liberate dal nostro esercito. Due, avere consenso nelle forze dell'ordine e nell'esercito. Finché come ha fatto Chavez che ha partito dall'esercito, ha costruito consenso nell'esercito e liberato il suo paese, è inevitabile pensare di uscire dalla Nato senza avere il consenso delle forze armate. Le forze armate devono essere della nostra parte e dalla nostra parte deve esserci un popolo cosciente e formato, in modo che ci siano grosse manifestazioni di piazza per questa liberazione, ci sia l'appoggio popolare, ci sia il supporto militare e ci sia un governo intelligente che stabilisca anche una strategia proprio di tattica militare per evitare morti e per mettere il governo americano di fronte alla liberazione compiuta.